per chi decidesse di cimentarsi nel disegno di un cuore vettoriale con adobe photoshop ci sono due buone notizie la prima è che con questo strumento strumento forma personale è possibile andare a selezionare una forma di cuore già preimpostata e creare con questa forma un cuore se teniamo premuto shift ancoriamo le proporzioni quindi il cuore è diciamo giusto come è stato disegnato dal designer che l'ha progettato altrimenti possiamo deformarlo come più ci piace una volta che è stato creato semplicemente con un doppio clic possiamo mettergli il colore che più ci piace e questo è uno la seconda buona notizia è che se vogliamo progettare un cuore geometrico usando semplicemente gli strumenti di creazione delle forme è abbastanza semplice infatti noi selezioniamo lo strumento rettangolo tasto u dalla nostra tastiera andiamo a cliccare e gli diamo una dimensione diciamo 300 per 300 pixel è assolutamente arbitrario va bene una dimensione qualunque l'importante è che subito dopo andiamo a selezionare lo strumento ellisse e gli diamo la stessa misura gli cambiamo levemente il colore in modo che riusciamo a vederli bene così capiamo cosa stiamo facendo questi due queste due forme sono alte esattamente uguali a questo punto io prendo tengo premuto shift e così rimangono ancorati e vado a posizionare qui il mio cerchio a questo punto lo duplico e quindi ho due cerchi il secondo lo porto qui e vedete che sia ancora da solo lo porto su e vedete che sia ancora da solo e quello che è successo è che ho realizzato un cuore perfettamente geometrico adesso lo ruoto in posizione ed eccolo qua andiamo a vedere com'è composto sostanzialmente lo vedete è composto da un quadrato e da due cerchi a questo punto io posso unire le forme e di nuovo posso andare a cambiare il colore semplicemente con un bel click ed ecco qua due modi rapidissimi di creare dei cuori queste sono forme vettoriali quindi io posso distorcerli e maltrattarli ingrandirli quanto voglio e non perderanno mai qualità e avranno sempre la possibilità di modificare il colore con un click e avranno